Al vostro fianco! Ascoltate, le truppe del primo ordine sono atterrate qui per rubare un manufatto. Proteggete il banco, non devono portarlo al punto di recupero. Proteggete il banco, non devono portarlo al punto di recupero, non devono portarlo al punto di recupero, non devono portarlo al punto di recupero. Proteggete il banco, non devono portarlo al punto di recupero. Proteggete il banco, non devono portarlo al punto di recupero. Proteggete il banco, non devono portarlo al punto di recupero al punto di recuperare il banco. Forse l'arrivo! Forse il disbarca dentro! Compattiamo! Ora, ora! Beccati questo! Bacco al sicuro! Ecco qua! Cerro occupato! C'è questo mioенно! Corso il cielo più ore! Non andiamo! Corso il cielo più ore! Corso il cielo più ove без ilio! Voi ovi dira... Lasso... Evviva! C'è l'avività che miatta... Veniva! Non lo so... allò è un team... Non lo so... 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 Sì, non vedi che mi fattano! Ricordate i nostri amici! Sì, che dico è? Come on! Che non vedi i miei fattori! Come on! 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 Primo ordine! Primo ordine! Oddio! Signor, si va con noi! Portatore nemico a terra! Facco in movimento! Intercettatelo! L'ordine non resisterà ancora a lungo! No! 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 Lei non iria! Via. Abbiamo recuperato il pacco! Danci una granata! Sono con voi! Lancio una granata! Danci una granata! Danci una granata! Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ordine ha il pacco. Fermate quel portatore! Il pacco è a terra! Tenetelo d'occhio! Il pacco è stato prelevato dal primo ordine! Arma pesante, carica! Il pacco è stato prelevato dal primo ordine! Il pacco è stato prelevato dal primo ordine! Prendete questa grande! Le porte nemiche hanno preso il pacco! Il pacco è stato prelevato dal primo ordine! 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 Mi copro io! No! Mi stiamo respingendo, ma non cantate vittoria. Pacco riportato alla base! Hanno preso il pacco! Pacco riportato alla base! Ah! Come on, boys! Banco in campo, prendiamolo! C'è mancato poco, non avrei voluto dover spiegare a Mads che fine ha fatto quel manufatto. Non avrei voluto, ma non avrei voluto da pericolazione.